La formazione è composta da 40 giovani musicisti riconosciuta come gruppo di interesse nazionale a firma del ministro per i beni e le attività culturali e l'orchestra giovanile Magliano di Larino che ha portato sul palco della ex GIL un repertorio che ha spaziato dalla musica classica a quella pop internazionale a brani della tradizione natalizia, tutti con arrangiamenti originali. All'evento hanno partecipato gli organizzatori dell'iniziativa oltre alle autorità politiche, civili, militari e religiose. La serata è stata anche l'occasione per raccogliere fondi da destinare alle attività formative dell'orchestra Magliano. Il 2014 è stato un anno straordinario per i 40 giovani musicisti della formazione che fa capo all'istituto comprensivo di Larino. Lo scorso maggio, infatti, la stessa orchestra ha vinto il GEF Global Educational Festival, festival internazionale della creatività scolastica di Sanremo, aggiudicandosi il primo premio. Nel mese di giugno il Consiglio Comunale di Larino ha approvato all'unanimità una delibera che attribuisce all'orchestra Magliano il titolo di Orgoglio della città di Larino. In agosto è stata premiata al Festival Noi Artisti di Questa Terra, organizzato a Montorio nei Frentani. A ottobre si è tenuto il primo concerto pubblico in piazza Larino in occasione della Festa di San Francesco e San Pio. Le attività sono proseguite lo scorso 18 dicembre nell'auditorium del primo circolo di Termoli con uno spettacolare concerto di Natale. L'orchestra Magliano è nata nel 2001 come emanazione delle attività di musica ed insieme delle classi di strumento musicale dell'Istituto Comprensivo di Larino. I coordinatori e direttori della compagine sono i docenti di strumento musicale Roberto Di Carlo, Matteo Iannaccio, Oreste Sbarra e Giuseppe Lanese.